Parliamo adesso con Davide Minieri e Dove Sales Keyless di vulnerabilità delle app di mobile banking. Andavamo tutti nella stessa direzione. Noi quello che vediamo sul mercato è una convergenza, da una parte una convergenza dei sistemi di rilevazione del comportamento, delle anomalie che sono nel comportamento in determinate operazioni fatte da un attaccante a un account di un correntista piuttosto che in altre frangenti di un utente, di un consumatore. Dall'altra c'è stato, come accennava prima il collega, un aumento delle frodi e dell'efficacia di queste frodi. Noi abbiamo fatto uno studio insieme a un rinomato studio di consulenza, una rinomata azienda che fa consulenza a livello mondiale e l'aumento non è solamente nelle frodi provate, quindi nei tentativi di frode, ma soprattutto quello che spaventa molto di più gli istituti finanziari vediamo essere l'aumento delle frodi che non vengono rilevate all'istante zero. Ora, come diceva il dottor Gianotti, è sicuramente importante avere un approccio olistico che va dalla prevenzione o comunque da un approccio proattivo di raccolta di informazioni per prepararsi all'analisi, un approccio che poi deve evolvere in un controllo di quello che sta avvenendo ed eventualmente un escalation in quello che è il requisito di sicurezza richiesto all'utente per la specifica operazione. Ora, è stato anticipato anche questo, l'avvento della SCA e di tutto quello che è venuto dalla PSD2 ha portato da una parte sicuramente sulla carta un aumento della sicurezza nominale, ma abbiamo visto che, e lo vediamo tutti i giorni, la realtà dei fatti è che gli attaccanti sono più veloci, come funziona, come succede sempre. Quello che noi crediamo in Keyless è il fatto di dover necessariamente evolvere i processi di autenticazione, i sistemi di autenticazione, in modo che non siano da una parte invasivi per l'esperienza utente. Parlavo qualche settimana fa con un nostro cliente, questo cliente che, come dire, lavora nell'ambito dei pagamenti, mi diceva che la SCA ha portato a un aumento del rate di abbandono della transazione, del pagamento, perché diventa, come dire, troppo oneroso per l'utente finale. Ora, in Keyless sviluppiamo una tecnologia che serve apposta per non solo ridurre l'operazione che deve essere fatta necessariamente, quindi l'autenticazione sicura, dall'altra parte vogliamo dare ai nostri clienti, alle aziende che utilizzano Keyless, la possibilità di combattere le frodi con un approccio integrato a sistemi di risk rating piuttosto che di risk assessment. Ora, come fare questo? Noi crediamo che il dato biometrico sia quel dato che, se trattato opportunamente, con i nuovi paradigmi di Zero Trust, che è stato già citato nei precedenti interventi, e dall'altra parte, congiuntamente con dei sistemi di decentralized identity o decentralized authentication, quindi tutto quello che è un po' veramente la nuova frontiera. Ecco, il dato biometrico applicato a questi due nuovi paradigmi noi crediamo sia l'approccio migliore, perché il dato biometrico, come dire, tendenzialmente se la tecnologia che lo verifica è fatta bene, non può essere impersonato. Mi spiego meglio. Io posso fare la maschera più, come dire, efficace possibile, o più dettagliata possibile, ma difficilmente potrò, come dire, avere il replicare completamente e in maniera assolutamente affidabile e efficace il volto di una persona. Giusto per dare un ultimo dettaglio, quello che l'autenticazione biometrica permette di fare è di staccarsi da quello che è un fattore di conoscenza, più o meno mascherato da tecnologie, anche magari biometriche, che tutti noi utilizziamo oggi, ma utilizzando Keyless si può abbandonare questa password o questo PIN e evitare che l'attaccante possa impersonare, come è stato già citato, possa installare device a nostra insaputa e fare operazioni sul nostro conto a nostra insaputa. Questo è un po' quello che è la nostra visione del mercato in questo momento. Grazie, Davide. In effetti già da un po' di tempo si parla di abbandonare le password e il vostro è sicuramente un approccio che abilita a questo passaggio, quindi è molto probabile che nei prossimi anni questo trend sarà seguito sempre di più, visto le debolezze dei sistemi attuali di identificazione. Grazie.